venerdì 19 luglio 2024 buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa buongiorno buon venerdì appuntamento alle 13 in diretta con fredimi live per parlare delle cose di milan e poi domani il rassegna stampa naturalmente al mattino e poi seguiremo insieme intorno alle 17 20 insomma qualche minuto prima della partita la prima amichevole stagionale del milan sul campo del rapid vienna quindi seguiremo insieme la prima uscita del milan di fonseca cercheremo di trarre qualche indicazione da essa andiamo a vedere le prime pagine dei giornali oggi si parla molto di mercato si parla molto anche della juventus perché lì c'è stata la conferenza stampa di tiago motta la juve compra ancora motta altri tre l'ha detto l'ha detto giuntori insomma compriamo altri tre giocatori per la gazzetta dello sport sono galeno con minor setto di bo ma i rinforzi potrebbero essere di più tiago motta dice apriamo un bel ciclo poi milanic milanic vedete avrete visto questa mattina se siete iscritti al gruppo whatsapp se non siete iscritti fatelo subito il link è in descrizione sotto è gratuito e tutte le mattine ci sono gli articoli sul milan le cose più interessanti sulla pochissima roba al giorno è però interessante milanic dice dicevamo in arrivo pavlovice e c'è l'incontro con papà samarsic ma ieri è stata la giornata anche di camarda e di zeroli perché ieri sono stati protagonisti nella vittoria dell'irlanda dell'italia contro l'irlanda camarda boom vedete doppietta all'europeo trascina anche l'italia under 19 prima da titolare e subito due gol per il nostro attaccante e dunque complimenti a camarda e complimenti anche all'italia che si qualifica per i mondiali perché qualche italia che si qualifica per i mondiali c'è ancora so che sembra strano andiamo al corriere dello sport corriere dello sport che parla della juve e ripropone un classico di questa estate ovvero la voglia motta un titolo che abbiamo già letto almeno 4-5 volte un ciclo con la juve giuntoli saluta rabbiò il tecnico dice arrivo nel momento giusto blaovic il talento deve essere esaltato dalla squadra l'evento si è salutato ufficialmente ad erin rabbiò che ora è svincolato e cerca squadra a destra la solita il solito mini treno di notizie di mercato l'inter insiste per gudmussoni milan lancia ibra junior l'attaccante 17 anni giocherà in serie c con i rossoneri e poi napoli situazione media la scossa di conte serve una rosa buona in basso vedete la roma de rossi su lei in testa e nessiri ostacolo murigno daniele spinge per portare mattias a trigoria il marocchino del la civilia tentato dal fenerbace di josé no io credo che invece l'attaccante più adatto per i fenerbace proprio conoscendo bene la costruzione della squadra sia luca jovic ecco luca jovic potrebbe essere davvero l'attaccante ideale per il fenerbace quindi io consiglio a murigno e nessiri lasciatelo andare alla roma che nessiri poi a roma secondo me proprio come città si troverebbe bene invece luca jovic luca jovic nome nome perfetto luca jovic andiamo a tutto sport devo si scherza ovviamente accidenti vedo già le vostre facce con gli gni gni si sta scherzando devo vincere è bellissimo dice tiago motta il gap dall'inter non pensiamoci più è il passato nel frattempo visite firma maglia foto e tutto per cabal che arriva dal verona e che in due ore è diventato un giocatore della juventus poi in basso vedete l'assalto del toro a robin gossens la nostra prima avversaria in campionato cerca rinforzi e poi zero lì e zero lì e camarda show è un under 19 del diavolo 3 a 0 l'irlanda del nord euro semifinale e mondiali questo il punto poi vabbè si parla del milan insomma il milan di zlatan da rabbio a full cruca ecco io su rabbio sinceramente non ci farei molto conto se dovessi così dare un parere di mercato allora andiamo agli approfondimenti dicevamo di tiago motta ieri presentato diciamo ufficialmente attraverso la conferenza stampa motta signore signora felice e vincente la sfida di tiago dice siamo ambiziosi di uve apriamo un bel ciclo il rompe il neotecnico bianconero abbiamo idee chiare giocatori forti e altri arriveranno entro la fine del mercato ad esempio i colpi che la juventus ha in mente sono questi tre eccoli qui che arrivano vedete giuntori non si ferma assalto a galeno e lavoro meno naturalmente aspetta con minor sensist per tody boy rinforzi potrebbero essere di più l'ala del porto scatta con adeiemi e con sancio l'intervista a cesare brandelli che tiago motta l'ha conosciuto bene e che tiago motta tra l'altro l'ha sfruttato anche nella finale sfortunata nel 2012 quando infortunato lasciò il campo e costrinse l'italia che aveva già completato tutte le sostituzioni a giocare in dieci contro quella grande spagna il ct che ha lanciato l'ex centrocampista in nazionale dice tiago alla juve farà come a bologna ma con più qualità sarà lui il top player e valorizzerà tutti vlaovic da 30 gol non sappiamo se morata sarà un attaccante da 30 gol probabilmente no ma ce lo auguriamo naturalmente nel frattempo però il milan lavora sulla difesa lavora sulla difesa e su paulovic milan un gigante da 20 milioni e per samas dice c'è l'incontro i rossoneri hanno l'accordo con il difensore cercano lo sconto dal salisburgo il papà agente di lazar atteso a casa milan dunque queste le prossime mosse di mercato gli austriaci partivano da una richiesta di 30 ma si tratta con ottimismo attese novità a breve invece per il jolly dell'udinese è pronta un'offerta da 15 milioni un anno fa era un passo dall'accordo con l'inter primo contratto da professionista intanto per ibraimovic junior che andrà nel milan futuro e sulla gazzetta dello sport si parla dello stile fonseca eccolo qua stile fonseca difesa alta postura e possesso insistito ecco il nuovo diavolo lo studio per la prevenzione degli infortuni fisioterapisti si cambia saliranno a 10 e quindi ne prendiamo di più sperando che insomma che 10 è meglio che 1 insomma che si possa evitare la piaga dell'anno scorso nel frattempo una curiosità de ketelare atalanta prestito fino a febbraio che cosa è successo è successo che fino al 3 febbraio del 2025 char de ketelare sarà un giocatore del milan perché in prestito all'atalanta la differenza rispetto a quello che è successo nell'estate scorsa però è netta allora il trasferimento del belga da titolo temporaneo adesso le due società si sono accordate per un prestito con un diritto di riscatto legato a condizioni certe questo perché non ci sono stati tempi tecnici per accordarsi sul passaggio definitivo ma le condizioni sono la prima presenza di de ketelare dopo il primo febbraio o il primo punto conquistato dalla dea con o senza sciarsi in campo dopo la finestra invernale quindi sicuramente de ketelare è un giocatore dell'atalanta così come zieninski è un giocatore dell'inter l'uomo in più analisi sul centrocampista polacco che è arrivato svincolato all'inter estroso ed utile per inzaghi un pieno di fantasia a centrocampo primo giorno in nerazzurro per piotre ad appiano trova tanta concorrenza però estimato dal tecnico a proposito di rabiot e del milan operazione assai complicata per via di costi in generale molto molto alti per quello che i nostri vogliono spendere qui c'è un approfondimento della gazzetta dello sport su quelli che sono a zero tra questi ci sono ermoso a sinistra in attesa del napoli vedete e poi c'è rabiot saluta i bianconeri per lui premier oppure liga si muove il napoli ovviamente per il mercato si muove nel mercato in uscita il napoli fa cassa scrive la gazzetta l'instrom everton osti l'instrom everton in inghilterra ostigar e gaitano in partenza ecco i tagli di conte lo svedese verso la premier il difensore rifiuta renni il centrocampista tra cagliari e parma bocciati anche che dira simeone e nata non questi potrebbero essere gli altri giocatori in uscita per cui che riguarda invece la roma la roma attende di sapere se sarà una roma argentina balla il discorso sulle che i giallorossi vogliono acquistare dalla juventus dopo l'offerta giallorossa da 25 milioni per mattia se si aspetta la risposta della juventus sono ore calde c'è da lavorarci sulle con dibala e paredes dei rossi sogna un trio di stelle nel frattempo la nuova maglia della roma eccola qua la nuova maglia testaccina perché è ispirata a campo testaccio ai colori di un abbonamento del 1933 19 34 chiudiamo con la nazionale quella buona quella che quella che vince quella che va ai mondiali e va anche in semifinale al campionato europeo under 19 stiamo parlando della nazionale di bernardo corradi con protagonisti giocatori del milan camarda che doppietta vale semifinale e mondiale avanti italia apre zeroli poi due gol del bomber del milan stendono l'irlanda del nord è la seconda vittoria gli azzurrini hanno già vinto il girone si qualificano al mondiale under 20 del prossimo anno ha detto corradi ho la fortuna di avere una rosa ampia non mi sono mai sentito così tanto in difficoltà nel scegliere l'undici titolare un grande gruppo e il risultato fa bene a tutto il movimento naturalmente speriamo di non disperdere quanto di buono potrà esserci in queste nazionali giovanili che stanno facendo bene e non certo da oggi bene noi siamo arrivati alla fine io vi ringrazio vi auguro una buona giornata un buon venerdì e vi do appuntamento alle 13 in diretta come sempre il piacevole appuntamento ora di pranzo per stare insieme e parlare di milano più tardi buon venerdì a tutti grazie buon venerdì